Il comune di Castellabate, nell'ambito della programmazione turistico-culturale, promuove nel periodo da luglio a settembre le iniziative sul territorio con eventi nel campo della musica, del teatro, della danza, delle tradizioni e dello sport. La programmazione estiva 2018 si arricchisce con tante novità e vede l'affermazione di rassegne culturali e di spettacoli che stanno ormai diventando un cult dell'estate cilentana, così come il grande concerto d'agosto sulla suggestiva spiaggia Marina Piccola di Santa Maria. Da annoverare tra gli appuntamenti del calendario approvato dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Costabile Spinelli, il premio Pio Alferano che il prossimo 20 luglio inaugurerà le prestigiose mostre artistiche a direzione di Vittorio Sgarbi e che il 21 luglio radunerà nelle antiche mura del Castello dell'Abbate nomi del calibro di Lino Banfi, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Bianca Berlinguer, Nicola Porro e tanti altri. Metti una sera con Salotto culturale sotto le stelle che ospita personaggi del mondo dello spettacolo per questa edizione si trasferisce sull'elegante terrazza di Villa Matarazzo con le interviste al regista Neri Parenti venerdì 13 luglio, al conduttore Giancarlo Magalli venerdì 27 luglio e all'attore Giuseppe Zeno sabato 11 agosto. Anche quest'anno è mancabile la serata dedicata allo shopping La Notte Blu 2018, tradizionale festa sul corso Matarazzo, in programma giovedì 19 luglio, che ufficializza anche quest'anno con la cerimonia simbolica di consegna ai pescatori l'assegnazione della prestigiosa bandiera blu per il diciannovesimo anno consecutivo. Momento musicale di grande spessore invece a San Marco, previsto per il 6 agosto in piazza. Si esibiranno i giovani talenti nostrani dell'orchestra di fiati giovanile del Cilento. Domenica 12 agosto non sarà possibile resistere al ritmo travolgente delle percussioni del maestro Tullio De Piscopo, che farà scatenare il pubblico sulla sabbia e riva al mare. Imperdibile, tra l'altro, il tradizionale spettacolo artistico pirotecnico di mezzanotte, naso all'insù a ferragosto per gli emozionanti fuochi sull'acqua. Altra rassegna consolidata ed attesa, il luogo dell'incanto, una cinque giorni che vivacizzerà il centro storico con concerti di alta qualità e che accontenteranno tutti i gusti musicali. Dal 25 al 29 agosto sarà un crescendo di emozioni al Castello dell'Abbate, tra serate con musicisti internazionali e il musical Le stelle di Notre-Dame de Paris. Tanti altri appuntamenti a cura delle associazioni del territorio consultabili sulla brochure distribuita negli esercizi commerciali, negli infopoint e reperibile presso l'ufficio di promozione turistica e culturale del Comune di Castellabate e sfoiabile anche sul sito online del Comune di Castellabate.